Buongiorno, di dove siete? Io personalmente sono di Piacenza, ma mi alleno a Lodi E tu che siete di Lodi? Con la Wask & Boys Siete tutti e due degli atleti? Sì Vi chiamate? Domenico Riccardi e Paolo Marzoli Quanti anni avete? Io ne ho 49 Io ho qualcuno in più E ho 45 A quanto pare l'apnea mantiene bene Sì Allora, come vi siete classificati? Siete soddisfatti delle vostre prestazioni? Sì, prima gara dello stagione direi che va bene Anch'io pensavo di fare esattamente quello che ho fatto Un po' meno del mio massimo Però sono contento di stare Ok, da quanto tempo voi fate questo sport? Io personalmente 5 anni Io ho più o meno 5 anni Però abbastanza intensamente negli ultimi due Ok Quali sono i vantaggi di questo sport? Ovvero se voi dovete dire a un ragazzo Vieni a fare apnea Perché? Prima di tutto è divertente Poi è anche un'attività che richiede una certa cura Nell'alimentazione Come tutti gli sport Ma anche una certa cura a livello psicologico Meditativo E insomma mantiene un certo equilibrio Che probabilmente ai giovani potrebbero sapere O una certa parte di loro Qualcosa da aggiungere? Non so Ma quanti soci siete a Lodi? Siamo una ventina Una ventina Sì Che fanno solo apnea? Sì Tutti apnea Tutti apnea E l'età media? Diciamo 40 anni Sì Ma perché ultimamente sono arrivati dei giorni? Dei giorni Sì Che è abbassata allora? Sì Sì Vi ringrazio tanto Grazie a voi